del corpo umano che me lo devo bastare ahhh io non lo vi hai da noi con lei c'è il mio po' lei un giro mi dà un attivaggio una donna una donna un corpo infatti Alberto ciao ma com'è bella la e te lo sei fatto? ma quando? è l'indemoniata abbastanza e quindi è proprio così guarda bene ma lo rifaresti? l'avresti dicendo? si forse forse il soggetto avrei fatto qualcosa di più grande però più tipo di fiori qualcosa di più dolce si 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 ma non te andiamo a far bagno in piscina ah bagno in piscina primo giorno tesoro fammi un attimo e che c'è la sauna andiamo a far io la sauna non la posso far so che è la versione bassa si vengo immediatamente yes no no con calma c'è tempo di yes grazie Grazie. Grazie.